Qualche giorno dopo, il 5 in particolare, con poi diffusione dell'informazione il giorno 6, anche la Commissione Tecnico-Scientifica della nostra agenzia regolatoria, quindi di AIFA, ha approvato l'uso di questi vaccini, in particolare confermando quella che è l'indicazione. I vaccini hanno autorizzazione all'uso in tutti i soggetti, oltre i 12 anni di età, che abbiano ricevuto il ciclo di vaccinazione primaria, quindi per capirci, per i vaccini a RNA due dosi. Il giorno susseguente, quindi il giorno 6, c'è stato il pronunciamento congiunto ECDC, quindi lo European Centers for Disease Control and Prevention ed EMA, rispetto alle categorie per le quali era prioritariamente raccomandata la vaccinazione con questi vaccini bivalenti.